Sono Alessandra Uzzas, laureato nella magistrale di urbanistica e pianificazione nel Dipartimento di Architettura dell'Università di Sassari e ho 26 anni. Il mio tutor è il dottor Antonio Ganga. Io svolgo la mia attività di ricerca nell'Università di Sassari, in particolare ospitato dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. Il progetto a cui sto lavorando è SOS, Soil Observation System, e ha l'obiettivo di realizzare un sistema di osservazione del suolo. Ho scelto di fare la domanda per questa borsa di studio perché avevo intenzione di fare un'esperienza di ricerca, prima ancora magari di fare un'esperienza di dottorato, perché insieme al mio professore avevamo la necessità di realizzare questo progetto al fine di continuare delle altre attività di ricerca. Grazie a tutti!